e facciamoci vedere che siamo ospitali facciamoci sentire che noi applaudiamo nonostante questi fanali ci faranno delle danze ora delicate e poi magari se lo desiderate domani forse anche più tardi mentre noi andremo con gli altri bardi potrete danzare pure voi stessi ma in questo momento come dei promessi io vi lascio queste danze antiche siategli ancora con le mani un poco amiche grazie a tutti 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 bene fa il pubblico come un antico patriarca ad apprezzare le danze delicate dell'antica marca io ve lo dico a voi grandi scienze nel medioevo c'erano piccole movenze al massimo forse nel castello si poteva fare un piccolo saltarello non erano come noi adesso che ballavano in modo ossessionato e per questo se vedete un ballo delicato è perché anticamente funzionava in questa maniera ma magari lo apprezzerete ancora questa sera grazie a tutti 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 qualcuno forse ha fischiato ma è anche un po' schiatato